Musica Prestiti di denaro a quasi 300 clienti con interessi usurati fino al 105% Ha arrestato un imprenditore e denunciato il complice che riscuoteva le rate a domicilio Eseguite perquisizioni e sequestro Accoglienza dei senza tetto a Pesaro, il presidente della città della gioia Lancia un appello, abbiamo bisogno di volontari Il confesercenti intitola la nuova sala riunioni della sede provinciale a Francesca Ruberti Presentato alla stampa il neoresponsabile sindacale Davide Ipparo La Colle Marathon si farà, ha revocato l'annullamento dell'edizione 2023 Dopo un confronto con le amministrazioni comunali e la regione Quota scontata e nuove sedi In casa CSI si pensa già ai centri estivi Offerte due settimane a chi si iscrive entro il mese di aprile Il più bello e il più originale Dopo il telegiornale annunceremo i vincitori del concorso di Fano TV Alla scoperta dei presenti Ben ritrovati di nuovo insieme cari telespettatori di Fano TV Ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai titoli La Guardia di Finanza e la Polizia di Stato Hanno arrestato per usura aggravata un 39enne Che prestava denaro con tassi usurari L'uomo è finito ai domiciliari Sentiamo Avrebbe applicato fino al 105% di interessi Il 39enne residente a Tavuglia Accusato di usura aggravata e di abusiva attività finanziaria Con un'operazione congiunta I finanzieri e il personale della Questura di Pesaro Hanno eseguito nei suoi confronti Un'ordinanza di misura cautelare Degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale L'uomo infatti svolge regolarmente Varie attività imprenditoriali Ma parallelamente aveva avviato da alcuni anni Un giro di prestiti di denaro Anche a tassi usurari Nel quale erano caduti numerose persone Durante una perquisizione svolta nel luglio del 2022 Era stata sequestrata numerosa documentazione bancaria e finanziaria È stata quindi svolta una minuziosa analisi dei faldoni Delle centinaia di appunti manoscritti E dei moduli rinvenuti Che hanno consentito di ricostruire il volume di denaro Che ha movimentato il 39enne Mettendo in luce 300 operazioni di prestito Svolte nei confronti di circa 280 soggetti Per un importo complessivo di 800 mila euro Con compensi pattuiti di tipo usurario Richiesti a tre persone In particolare l'uomo utilizzava delle schede clienti E teneva all'interno dei fascicoli I titoli di credito trattenuti a titolo di garanzia Sul prestito concesso Come assegni bancari e cambiali Inoltre sono state rinvenute Delle stampe denominate piani di rientro Con le modalità di pagamento delle rate Con date, importi e capitale residuo Nell'inchiesta però c'è anche un secondo indagato Che si sarebbe occupato della riscossione a domicilio Delle rate dei prestiti in scadenza Oltre all'arresto dell'imprenditore Sono state effettuate varie perquisizioni nei luoghi Nella disponibilità dei due indagati Che hanno consentito il sequestro di ulteriore materiale probatorio Nonché dell'importo di 1.100 euro Ritenuto il potenziale profitto dei reati contestati È morto all'età di 90 anni Oscar Piattella Il noto pittore nato a Pesaro E fortemente legato anche alla città di Cantiano Dove ha lavorato fino agli ultimi giorni Ad esprimere cordoglio Oltre al presidente della provincia Giuseppe Paolini Anche i sindaci Matteo Ricci e Alessandro Piccini Oscar ha scritto Ricci su Facebook Hai contribuito con il tuo genio e con la tua generosità A realizzare il sogno di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura Un riferimento per il mondo culturale Che in 65 anni di carriera Ha caratterizzato la scena contemporanea internazionale Con un percorso autonomo Ma sempre collegato alla ricerca e ai movimenti Che avvenivano nelle piazze moderne più importanti In questo suo ultimo periodo Ha ricordato invece Piccini, sindaco di Cantiano Stavamo lavorando ad un allestimento permanente Legato al maestro con l'intitolazione Di una sala a lui dedicata All'interno del complesso museale di Sant'Agostino Ora questo progetto, continua Piccini Diventerà per noi un impegno Una scossa di terremoto è stata avvertita Questa mattina alle 11.45 In Romagna e nelle Marche Da Ravenna ad Ancona L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Ha infatti registrato un sisma di magnitudo 4.1 A 3 km su de'ovest Da Cesenatico in provincia di Forlicesena Ad una profondità di 19 km Dalle prime verifiche effettuate Non sono stati segnalati danni a persone o cose In via precauzionale Sulla linea adriatica alle 11.50 È stata sospesa la circolazione ferroviaria Tra Cesena e Sant'Arcangelo di Romagna E tra Igea Marina e Cervia A proposito di terremoto Nello scorso novembre Gli assessori di Pesaro, Vimini e Pozzi Hanno fatto sapere che per il Teatro Rossini Il sisma più forte degli ultimi cento anni Ha complicato i lavori in corso Quindi è stato necessario rivedere le priorità E bilanciare le esigenze della sicurezza Quella degli spettacoli E della programmazione di Pesaro 2024 Mettendo mano al cronoprogramma dei lavori E prevenendo tutti gli spettacoli del ROF Alla Vitrifrigo Arena Il complesso di Piazzale Lazzarini Era già oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria Ma il sisma, hanno aggiunto, ha complicato il quadro E abbiamo dovuto rivedere il progetto Per far fronte ai danni sopraggiunti I lavori che da progetto iniziale Potevano concludersi in poche settimane Dovranno proseguire per tutta l'estate Quindi non sarà possibile accogliere gli spettacoli Del Rossini Opera Festival Che come deciso in maniera congiunta Con direttore e sovrintendente del ROF Saranno ospitati alla Vitifrigo Arena Mentre i concerti si svolgeranno al teatro sperimentale E ora passiamo all'appello Lanciato dal presidente della Città della Gioia L'associazione che si occupa di accoglienza per Senzatetto Che è alla ricerca di nuovi volontari 60 volontari, due case gestite 13 posti letto e 200 ospiti ogni anno L'associazione di volontariato La Casa della Gioia Si occupa dal 1999 di solidarietà nel Pesarese La principale attività dell'associazione È la gestione della struttura di prima accoglienza Casa Mariolina In collaborazione con il Comune di Pesaro La Fondazione Cassa di Risparmio E la Fondazione Banco Alimentare L'edificio è situato in via dell'Acquedotto 23 A pochi minuti dalla stazione ferroviaria e dall'ospedale San Salvatore A gestire la casa destinata ad accogliere persone senza fissa dimora Sono i volontari Quei volontari che a turni accudiscono coloro che vivono ai margini della società Servono però altre braccia sulle quali poter contare per proseguire l'attività di ospitalità Che poi vengono indirizzate allo sportello Caritas Ai servizi sociali o ad altre strutture Non c'è solo la prima accoglienza Noi negli anni abbiamo sviluppato anche altre due realtà Casa Primavera e Casa Aurora Come vedete qui nelle mie spalle L'abbiamo messa nel nostro stand Casa Primavera e Casa Aurora Sono delle strutture d'accoglienza dove cerchiamo di fare la seconda accoglienza Quindi la seconda accoglienza cerchiamo di reinserire le persone nella quotidianità Sono divise Casa Primavera e Casa Aurora perché una è maschile e l'altra femminele Attualmente Casa Primavera è chiusa per mancanza dell'alloggio Se no era un appartamento nel quartiere di Villa San Martino Casa Aurora invece è tuttora operativa Ha sei posti disponibili E si trova nel centro storico Quindi anche la logistica della posizione di Casa Aurora È proprio per combattere l'emarginazione Trovandosi nel centro storico Le persone ospitate sono subito reinserite nel flusso cittadino Nella vita quotidiana Quindi effettivamente il cittadino come può aiutarvi? Il cittadino può aiutarci con donazioni Abbiamo sul nostro sito il nostro numero per il 5 per 1000 O anche l'Iban Ma ci farebbe ancora più piacere se il cittadino venisse a provare il volontariato da noi Il volontariato da noi si basa su due turni Quello serale della cena e quello notturno Quello serale si basa dalle 18.45 alle 21.30 Si svolge con tre persone di cui uno è responsabile E si cena insieme agli ospiti Si dialoga con loro nella piena convivialità La struttura ha sette posti Il clima è molto sereno Abbiamo necessità di forze fresche e nuove idee Perché da cosa nasce cosa E più persone collaborano in questa realtà Meglio si riesce a concretizzare anche La giunta regionale delle Marche ha indicato Maria Capalbo Come nuova direttrice generale dell'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani di Ancona La dottoressa Capalbo vanta un'esperienza manageriale di primo piano In cui ha ricoperto molteplici e prestigiosi incarichi in ambito sanitario Fino alla nomina nel 2015 di direttore generale alla guida dell'azienda ospedaliera Ospedali Marche Nord in carico Che ha ricoperto fino al mese di novembre 2022 Poi proseguito in qualità di commissario straordinario In virtù della riforma del sistema sanitario regionale Che ha incorporato l'azienda ospedaliera nell'AST1 di Pesaro e Urbino Nel periodo di emergenza sanitaria Si è distinta particolarmente nella lotta al Covid-19 Sempre in prima linea al fianco del suo staff E del personale medico e sanitario dell'azienda Marche Nord Da lei diretta Tanto da ottenere su indicazione della presidenza del Consiglio dei Ministri E con un decreto del Presidente Mattarella Il titolo di ufficiale al merito della Repubblica Italiana Verrà attivato il primo di febbraio nel comune di Pian di Meleto Il primo punto di prossimità della provincia di Pesaro e Urbino Che introduce una nuova figura professionale L'infermiere di comunità A favore dei residenti di una delle zone più interne Quasi al confine con la Regione Toscana Il progetto prevede l'istituzione di un punto di prossimità Complementare all'attività svolta sul territorio dai medici di Medicina Generale E dalle altre figure professionali Che sarà ubicato nell'ambulatorio di via Giacomo Matteotti 11 L'infermiere di comunità sarà presente tutte le mattine Da lunedì al sabato dalle 9 alle ore 13 Si occuperà della presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche E al coltempo garantirà le cure primarie Assicurando una serie di funzioni Tra queste la rilevazione dei parametri vitali Somministrazione delle terapie, medicazioni Trasmissione della refertazione all'unità operativa ospedaliera di cardiologia di riferimento Inoltre, in caso di particolari necessità L'infermiere potrà svolgere la propria attività direttamente nel domicilio dell'assistito E come ogni sera passiamo alle vostre segnalazioni Partiamo da una foto di una caditoia da sistemare di fronte al centro non solo donna In via Cena a Gimarra E poco distante un reporter di strada ci ha inviato questo video che guardiamo insieme Siamo sulla statale adriatica Che qui al centro di Fano diventa viale Primo Maggio Quello che vedete sullo sfondo è il semaforo del Lido E qui siamo al numero civico 95 Dove ci troviamo di fronte a una bella sorpresa L'asfalto è ceduto C'è un bel buco E siccome la gente qui ogni tanto ci passa in bicicletta Di giorno magari se ne accorge Di notte fa un bel volo E se tutto va bene finisce all'ospedale con la testa rotta Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto Prima di mandare qualcuno a ripararlo Davide Ippaso è il nuovo responsabile sindacale di Confesercenti di Pesaro e Urbino In occasione della sua presentazione alla stampa L'associazione ha voluto intitolare la nuova sala riunioni Della sede provinciale a Francesca Ruberti La collega di 50 anni strappata alla vita da un mare incurabile Sentiamo Una scommessa per il futuro portandosi dietro le proprie radici Confesercenti di Pesaro e Urbino Aperto l'anno con l'inaugurazione e l'intitolazione della nuova sala riunioni Alla memoria di Francesca Ruberti Giovane collega Recentemente scomparsa all'età di 50 anni Ecco qua Lo spazio situato al piano terra di Viesalvo d'Acquisto Sette, sede provinciale dell'associazione Sarà anche aula didattica adibita ai corsi CESCOT Il centro sviluppo di Confesercenti Dove Francesca era tra i responsabili Questa dedica, affermato il presidente Borgiani È un segno con il quale vogliamo esprimere e fissare nel tempo la nostra stima per lei Una presenza, la sua, che ci manca nel profondo Per la capacità che aveva di ascoltare, mediare Di trovare una soluzione ai problemi di ogni giorno Sempre con il sorriso, il garbo e l'intelligenza Che sapevano contraddistinguerla L'anno appena iniziato si identifica anche con il nuovo corso Che l'associazione ha intrapreso ormai da qualche mese E che ora si perfeziona con l'aggiunta di un tassello importante L'arrivo di Davide Paso, già segretario di ConfCommercio Pesaro I Paso, come spiegato dal presidente provinciale Pier Stefano Fiorelli Ricoprirà la figura di responsabile sindacale E insieme con direttore e vice direttore Sarà il braccio operativo dell'associazione Ci porta innanzitutto l'esperienza L'esperienza che ha maturato sul campo Che Confesercenti Ma io per primo, vi ho già spiegato Il rapporto di amicizia che ci lega Ho potuto constatare in tanti anni di attività Di tanti anni di passeggiate insieme Per il centro storico e non solo Ho visto la professionalità di Davide Ho visto come lavora E sinceramente sono veramente molto, molto, molto fiero Di averlo con noi Anche perché, anche se viene da un altro mondo Da un'altra famiglia Rispecchia tanto i valori di Confesercenti Quindi siamo assolutamente molto contenti E Davide ci darà quel tassello in più Ci darà quella mano in più Per essere ancora più vicini agli operatori Ed essere anche qualche volta critici Qualche volta in senso positivo Qualche volta in senso negativo Con il mondo istituzionale Entro in Confesercenti Ha poi commentato Ipazo Per portare la mia esperienza E aiutare l'associazione a crescere Nel miglior modo possibile In linea con il progetto di rinnovamento Già avviato Spero di portare tutta la professionalità E la conoscenza del territorio E la conoscenza del mondo E dell'associazione Nel miglior modo possibile Mi sono entrato a piccoli passi Dentro sicuramente una nuova famiglia Che mi ha accettato in maniera bellissima Mi ha fatto stare bene E volevo ringraziare la Confcommercio Comunque anche il direttore Varotti Per ciò che mi ha insegnato negli anni Perché 29 anni di fianco a una persona Che è molto brava nel territorio Mi ha insegnato tanto Ero arrivato a un punto della mia vita In cui avevo perso gli stimoli Non era depressione Ma ho avuto momenti Dei miei familiari molto pesanti Che mi hanno sfiancato Avevo bisogno di ricaricarmi E adesso sono rientrato Perché ho ricevuto tantissime Tantissime attestate di stima Da parte di operatori Che mi chiedevano Che cosa avevo intenzione di fare Se avevo voglia di rientrare un attimo in gioco E questo mi ha dato carica La carica ce l'ho Sono pronto di nuovo A girare A voltare un'altra pagina Della mia vita Rimanendo sempre in quel sistema Che io adoro Quello del mondo dell'associazione E quello del mondo imprenditoriale La Colle Marathon La Maratona Barchi-Fano Si farà E si disputerà regolarmente Il 7 maggio Dopo un confronto Con le amministrazioni comunali E la Regione Oggi pomeriggio È stato revocato L'annullamento Dell'edizione 2023 Infatti Dai rappresentanti Delle istituzioni È emersa La volontà Di sostenere l'evento Anche dal punto di vista Economico E continuiamo Sul nostro filone Dedicato allo sport Con il CSI di Fano A lavoro Per i centri estivi Tra le novità La tariffa scontata Per il 2023 E nuove sedi In diversi comuni Della provincia Di Pesaro Urbino Il servizio Che adesso andiamo a vedere È stato curato Da Matteo Del Vecchio Anche se l'estate È ancora lontana Meglio Non farsi trovare impreparati Lo sanno bene In casa CSI Dove già da tempo Si lavora Al gioco e sport I centri estivi Che da giugno Ospiteranno Bambini dai 3 Ai 14 anni E che lo scorso anno Hanno superato Le 2000 iscrizioni Già diverse le sedi Confermate per l'estate 2023 Tra queste Spicca la scuola Montesi di Santorso Che dopo un anno Di assenza Torna ad arricchire Il ventaglio dell'offerta Che ad oggi Comprende anche Il circolo tennis trave La scuola dell'infanzia Rodari Nel quartiere Poderino La scuola Tombari A Bellocchi La scuola dell'infanzia Bimbe e bimbi Sempre a Bellocchi Il Palas Aiende E la scuola Don Milani Nel quartiere Villa San Martino A Pesaro Altra scommessa vinta Dal presidente Marco Pagnetti E il suo entourage Sempre più radicali Anche nel capoluogo Di provincia Ma al di là delle sedi Destinate ad aumentare Da qui ai prossimi mesi Quello che merita Maggior risalto È sicuramente Lo sconto di 10 euro Sulla tariffa settimanale Uno sconto Che va ad aggiungersi Alla quota assicurativa Interamente a carico Dell'ente E quindi A costo zero Per le famiglie E alle due settimane Completamente gratuite Per chi si iscrive Entro aprile Ovviamente Precisa il vice presidente Francesco Paoloni Costo più basso Non significa meno servizi Anzi A breve Partirà un corso Di formazione Che permetterà Al nostro staff Di crescere ulteriormente E di arricchirsi Di nuove figure Per saperne di più Sui centri estivi Sul corso di formazione E su tutte le attività Del centro sportivo italiano Di Pesaro Urbino Si può visitare Il sito www.sifano.it Perché anche se l'estate È ancora lontana Meglio non farsi Trovare impreparati E vi ricordo che E vi ricordo che lunedì prossimo L'ospite di Primo Cittadino È il sindaco di Terre Roverischi Antonio Sebastianelli Restate sintonizzati Sul nostro canale Perché tra poco Dopo le previsioni del tempo Annunceremo i vincitori Del concorso di Fano TV Alla scoperta Dei presepi Seguirà poi Il primo Di una serie di appuntamenti E approfondimenti Sul carnevale di Fano Ospite La presidente Gian Marioli Saul Salucci Del direttivo dell'ente Insieme a due maestri carristi Luca Basilic E Matteo Angherà Successivamente poi Riproponiamo Dopo l'approfondimento La puntata di Esplorare i confini Insieme ad Oscar Piattella Grazie per essere stati con noi E arrivederci Grazie a tutti